Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A11 l'area di servizio di Saravalle Sud, in direzione Firenze, è sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra Poggi Bonzi e Sandonato, in direzione Firenze. Chiuso lo svincolo di Poggi Bonzi Nord. Sulla statale 1 Aurelia, strada chiusa al traffico per cantiere tra Follonica, Est e Venturina, in entrambe le direzioni. Percorso alternativo sulla vecchia Aurelia. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato tra Pisa e Dogana Nuova, in tratti saltuari. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!